45 milioni di morti, tra cui 30 milioni di cilieva. Non dimentichiamo che questo polere non accade. La resistenza poi ci ha portato a deputazione e a costituzione. Ricordiamo che in questa parola costituzionale è importante che con il campo dell'Europa cerchiamo, anziché di parlare di ridurla, di accettarla completamente nelle città di questi momenti di testimonianza, ci sentiamo sempre più impegnati, non vale per questo il tempo che è trascorso a scolorire la memoria, anzi, più passa il tempo, più lo sforzo di ricordare si impone come un dovere civico per rafforzare le radici della nostra democrazia e non è retorico dirlo, in tempi difficili nei quali i valori fondamentali vanno tenuti alti, vanno consolidati. Noi abbiamo tanti percorsi che riguardano la memoria, purtroppo è sempre una memoria dolorosa perché è fatta di sacrifici, è fatta di martiri, è fatta in questo caso di una catena di stragi che ha toccato in modo sanguinoso la nostra città, che ha toccato la Toscana e la nostra provincia con episodi particolarmente ferrano.